Ben trovati dal appuntamento con Detto il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Ed ecco i titoli che affronteremo in questa puntata. Parleremo della solidarietà alla CGL e ai lavoratori che arriva da tutto il Consiglio regionale e poi si parla di come combattere lo spopolamento e dare opportunità ai giovani nelle aree interne della Toscana e poi si celebra il tartufo a Palaia con la mostra mercato che andrà avanti fino a dicembre. Il primo tema è di attualità. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo a nome di tutto il Consiglio regionale della Toscana ha espresso vicinanza e solidarietà ai lavoratori iscritti alla CGL. Sono al vostro fianco in difesa della libertà e della democrazia. Questo è avvenuto dopo l'incursione nella sede nazionale a Roma. Questi gruppi e formazioni vanno sciolti e responsabili delle violenze vanno individuati e puniti come prevede la nostra legislazione. Questo è quello che ha dichiarato Mazzeo ma ascoltiamo anche il commento dei consiglieri di ciascun gruppo politico. Io spero che il Consiglio regionale si possa discutere. Si discute solo ad una condizione per l'ordine dei lavori che ci sia l'unanimità di tutte le forze politiche. Gli atti che sono avvenuti in questi giorni, gli atti squadristi da parte dei Novax e delle forze neofasciste che ci sono in questo Paese, sono stati qualcosa di incredibile, impensabile, gravissimo e io credo che il Governo e il Parlamento debbano agire rapidamente e sciogliere forze di questo tipo, estremiste e neofasciste. Questa è la strada da percorrere velocemente e io mi auguro che anche il Consiglio regionale della Toscana, tutto compatto, mandi questo messaggio al Governo e al Parlamento. Io credo che la Costituzione purtroppo non è applicata ancora in tantissimi punti fino in fondo, penso al tema dei diritti su cui si potrebbe applicare già ora in maniera più forte. La politica deve fare la sua parte, deve fare la sua parte fino in fondo. Se non basta e ci serve, come dire, il Parlamento dica la sua, che noi consigli regionali diciamo la nostra, facciamolo perché in gioco c'è la democrazia del nostro Paese. Noi in questa mozione chiediamo al Governo di valutare lo scioglimento di tutte le forze che si rifanno alla apologia del fascismo. Questo non perché vogliamo discriminare qualcuno ma perché vogliamo che sia riaffermata la nostra Costituzione che appunto prevede che il fascismo non può far parte, cioè della nostra legislazione, della nostra Costituzione, non può far parte insomma di quello che è il nostro vivercivile. Tutto quello che si rifà al fascismo ovviamente non può essere parte della nostra organizzazione democratica. Ho presentato personalmente la sera stessa la mia solidarietà alla direzione provinciale di Pisa e per esteso quindi a tutta la CGL toscana e nazionale la mia solidarietà per l'atto vergognoso di cui si sono trovati oggetto. E condanno questo due volte perché innanzitutto è stata colpita la sede di un sindacato, di qualunque opinione se ne abbia, resta sempre comunque sia un simbolo dei lavoratori. Quindi istituzionalmente è stato un gesto squadrista, come ha detto lo stesso segretario Landini, vergognoso e molto pericoloso su cui dobbiamo accendere istituzionalmente i riflettori. Il secondo aspetto è perché questi fascinorosi di chiara matrice di destra, cosa evidente a tutti tranne ai diretti interessati, ai vertici dei loro partiti, hanno in questo modo macchiato una manifestazione che era fatta di persone che condividevano un'idea, magari non condivisa da me o da altre persone, ma comunque si hanno manifestato pacificamente lungo le strade, cosa che in una democrazia come quella italiana è sempre permesso. Quindi il disvalore che è stato presentato in questo gesto è stato doppio. Quindi è bene che le istituzioni e soprattutto gli organi inquirenti approfondiscano cos'è accaduto e condannino fermamente tutti i responsabili, perché non diventino poi seme di altri eventi di questo tipo. Stoppa la violenza e tutti noi dobbiamo farci carico di portare distensione anche nel nostro operato e nel nostro modo di fare politica. Speriamo che il governo e il Parlamento le cifre il più presto possibile su tutti gli haters che ci sono, quegli fantastici leoni da tastiera che sui social aggrediscono, infamano quotidianamente tutti. Vediamo che tipo di emozione arriverà. Noi però non abbiamo dubbi, sostenendo la storia che ci ha sempre contraddistinto, a condannare ogni tipo di violenza come per esempio l'aggressione alla sede del sindacato che è successa a Roma. Però d'altro canto non abbiamo nemmeno dubbi a dire che la storia di questo Paese non può essere scritta soltanto da una mano, che in questo Paese sono avvenuti fatti gravissimi e mai condannati, che il Presidente Berlusconi nell'arco degli anni è stato attaccato, infamato, addirittura gli è stata gettata una statuetta addosso mandandola all'ospedale e gli attestati di solidarietà dalle farze politiche non sono sempre arrivati. Ecco perché noi fermi nella nostra storia diamo solidarietà alle persone ma anche vogliamo che sia fatta chiarezza in questo Paese su quello che è successo. Sulla mozione a noi va benissimo discuterla, credo sia un tema da sottoporre assolutamente alla politica. È un po' surreale il fatto che la politica, e non credo sia nemmeno legittimo più di tanto, che la politica disponga lo scioglimento di una forza politica. Cioè ci sono strutture, istituzioni apposite che dovranno decidere questo e mi auguro, perché le violenze vanno sempre condannate e combattute, mi auguro che chi sia competente agisca in questa direzione e provveda a sciogliere tutte quelle forze politiche, Forza Nuova se ha commesso dei reati come quelli di Roma la settimana scorsa senza ombra di dubbio, ma tutte quelle forze politiche di destra, di sinistra, di centro, di sopra o di sotto che fanno della sopraffazione, della violenza, dell'impedimento fisico all'avversario di esprimere la propria opinione, la propria bandiera, la propria azione politica. Chi si pone fuori dalla legalità deve essere sciolto, lo devono fare gli organismi competenti, la politica lo può segnalare, bene se oggi segnala lo scioglimento di Forza Nuova, altrettanto vigore, altrettanto deve essere netta la condanna quando a compiere azioni simili a quelle sono altri movimenti. Quanto è successo a Roma è ulteriormente un fatto ancora più grave, ma questa spirale di violenza, che poi si determina in alcune piazze italiane, indipendentemente da dove si verifica e contro chi si verifica, sempre corretto la solidarietà di chi subisce un'aggressione, ma le aggressioni a mio avviso sono fisiche, sono molte volte anche verbali, e poi queste cose possono congiungersi. Quindi il clima di odio, il clima verbale, l'utilizzo di queste terminologie, molte volte innesca e determina a sua volta delle reazioni da parte di gruppi estremisti. Quindi la politica, le istituzioni, chiunque le rappresenta, non può avere due facce, due volte, un giorno sì, un giorno no. Sempre vanno condannati, ma la condanna deve iniziare dalle aggressioni verbali per poi condannare ovviamente quelli che sono atteggiamenti anche fisici o violenti che non sono concepibili dalla nostra Costituzione. Intanto ferma, condanna nei confronti tutti coloro che vanno in giro e commettono violenza. Purtroppo non è la prima volta che in Italia si verifica, questa volta le violenze sono state attribuite a esponenti di forza nuova, ma a noi è successo più di una volta di subire le stesse violenze anche durante le nostre manifestazioni da parte dei centri sociali. Quindi è bene che la politica si renda conto che quando ci sono certe azioni, indipendentemente da chi le commette, si debba comunque porre rimedio e trovare un rimedio. È arrivata una mozione anche da noi in aula qui in Consiglio regionale, proporremo degli emendamenti prima di votarla, ma pensiamo che si debba fare un ragionamento complessivo e molto ampio, perché la violenza non ha colore politico, cioè ce l'ha, ma ce l'ha spesso in più sfaccettature, in più colore a seconda delle situazioni. Quindi è bene quando si condanna condannare tutto e tutti quanti. Chiaro, noi vogliamo esprimere la nostra solidarietà alla CGL, perché quello che è avvenuto è assolutamente inaccettabile a fronte di tante persone che invece erano a manifestare in maniera pacifica e legittima e quelle invece vanno difese e tutelate perché il diritto di manifestare deve essere mantenuto sempre, in maniera però pacifica. Per dovere di cronaca diciamo anche che Antonio Mazzeo ha espresso, a nome di tutto il Consiglio regionale della Toscana, anche vicinanza e solidarietà al segretario toscano della FIM, CISL Alessandro Beccastrini, a cui è arrivata una lettera di minacce contenente un proiettile. Cambiamo invece argomento, il secondo tema che affrontiamo è la proposta di risoluzione sulla possibilità di attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne per combattere quello che è lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. L'obiettivo della proposta di risoluzione è presentata dalla Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne in Toscana. La risoluzione quindi impegna la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti del Governo e in prospettiva del Parlamento per fare in modo che siano inserite specifiche agevolazioni fiscali nella complessiva riorganizzazione del fisco, la cosiddetta fiscalità di vantaggio per le aree interne. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro, di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare il Governo assieme alle altre regioni però ora è arrivato il momento e è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Noi parliamo spesso dei servizi ma i servizi si garantiscono solo se c'è non spopolamento ma se c'è presenza delle persone su un territorio. Gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio. È un atto importante, le aree interne sono quelle che in questo momento più di altre stanno soffrendo quindi bene il lavoro fatto dalla Commissione per cercare di dare una misura fiscale a favore di quei territori molte volte periferici, non solo montani ma anche collinari ma lontani dalle grandi città che più di altri faticano a trovare livelli di competitività. C'è un atto, ed è evidente dai dati che abbiamo in mano di spopolamento oggettivo delle periferie urbane non di quelle collegate alle città ma delle realtà rurali che invece potrebbe andare in controtendenza se rendono incentivanti la possibilità di andare a vivere in quei territori andandoci a vivere, quei territori hanno bisogno di servizi nuovi e aggiuntivi se non ci sarà questa inversione di tendenza è evidente che la Toscana viaggerà a due velocità quindi siamo a favore di questa misura. Io penso che un organo legislativo qual è il Consiglio regionale avrebbe potuto fare molto di più soprattutto impegnare se stesso a fare delle iniziative in quel senso pensiamo per esempio a una tassa di ambito regionale il bollo auto, il bollo per i mezzi di trasporto se avessimo immaginato di sospendere il pagamento del bollo auto per tutti quei mezzi commerciali delle partite IVA che hanno sede legale nelle aree interne avremmo fatto una cosa sensata e con un'efficacia diretta invece così si è invitato a qualche di un altro a fare qualche cos'altro è il solito giochino del rimandare la palla in calcio d'angolo sicuramente la strada giusta sicuramente la regione può intervenire direttamente per anche abbassare la pressione fiscale sulle imprese su coloro che continuano a fare attività nelle aree interne con iniziative proprie non chiedendo di fare agli altri è sicuramente un passaggio in avanti nei confronti delle aree interne che sono penalizzate per una serie di motivi infrastrutturali, di servizi di beni di prima necessità che da sempre diciamo hanno le aree interne ma non solo anche le isole hanno e la commissione aree interne proprio cerca di mettere il focus su questo come abbiamo fatto nella scorsa legislatura con la commissione costa perché si può dire che la Toscana è ovunque bella un slogan coniato nella precedente legislatura ma deve essere anche ovunque vivibile perché i toscani vogliono continuare a abitare interamente la loro regione ma devono essere messi in condizione di farlo questo banalmente può essere scoraggiato da un'infrastruttura una strada mancante o disagevole oppure la mancanza di un presidio sanitario territoriale anche ad esempio per la pediatria che scoraggia spesso molte famiglie ed è una causa che mi sono presa particolarmente a cuore anche per la zona di Volterra ma anche molte altre Pitigliano, San Marcello Pistoiese proprio perché non esistono cittadini toscani di serie A e di serie B e questo vale per tutti Andiamo invece adesso al territorio di Palaia in provincia di Pisa da sempre vocato alla ricerca e alla raccolta del tartufo dedica la stagione autunnale alle celebrazioni del re dei boschi fino al prossimo 8 dicembre Palaia terra di tartufi la manifestazione ricca di eventi si è aperta all'8 di ottobre con la 35esima edizione della mostra mercato del tartufo e del funco porcino di Forcoli Palaia è una delle capitali del tartufo non solo nel territorio pisano ma in Toscana ne abbiamo molte quindi il tartufo e la sua valorizzazione sono uno strumento prezioso anche di promozione del territorio uno strumento di marketing il tartufo legato all'enogastronomia diventa davvero una leva importante anche per fidelizzare anche turisti e visitatori perché sappiamo bene come le prelibatezze della tavola poi rimangano ben impresse in quanto una persona riporta dalle proprie visite e dai propri giri turistici quindi è davvero un'occasione preziosa anche perché il tartufo poi del resto segnala anche un territorio ambientalmente integro salubre e quindi anche questo è un elemento di pregio perché appunto propone un territorio e un paesaggio ambientalmente appetibile e suggestivo vogliamo valorizzare il nostro territorio con il re del bosco il re della tavola che arricchisce le nostre colline e quest'anno una grande novità perché la mostra mercato andrà di fatto avanti per due mesi con una serie di iniziative di appuntamenti di scene di esperienze che dall'8 ottobre all'8 dicembre arricchiscono il nostro calendario degli eventi con iniziative su tutto il territorio comunale a Palaia e con il tartufo si conclude anche il nostro appuntamento condetto al Consiglio vi ricordo per tutte le informazioni gli aggiornamenti c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it vedete anche quelli che sono sia gli indirizzi che i numeri per mettervi proprio in contatto con il palazzo del Pegaso grazie per averci seguito l'appuntamento è la prossima settimana vi aspetto sempre qua dentro il Consiglio grazie per aver guardato il nostro canale